Io ho il compito di darvi alcune indicazioni, sono Gianluca Finito del Formez, ho il compito di darvi alcune indicazioni operative sulla giornata di oggi e soprattutto introdurvi il tema di questa giornata. Partiamo come abbiamo fatto le volte precedenti, però dal contesto in cui si colloca questo webinar, quindi la settimana dell'amministrazione aperta, è un evento che si svolge per il primo anno, questa è la prima edizione e che come potete vedere da questa cartina, che non è aggiornatissima perché si sono aggiunti molti altri eventi in questi giorni, si sta svolgendo in contemporanea in tantissime città del nostro paese, alcuni eventi come questo si svolgono a distanza e quindi in qualche modo catturano, raccolgono anche adesioni da parte di tutto il paese. Nei giorni scorsi abbiamo visto un velocissimo video che vi ripropongo, è lo spot che sta circolando nei canali RAI che presenta proprio la settimana dell'amministrazione aperta, è un modo per cominciare la giornata in modo più dinamico, spero riusciate a vederlo bene, se dovesse arrivare a tratti non vi preoccupate perché comunque è disponibile su YouTube. L'amministrazione si muove e si trasforma, diventa più semplice, digitale e trasparente ed è solo l'inizio. Vieni a scoprire cosa cambia dal 4 all'11 marzo durante la settimana dell'amministrazione aperta, perché tu puoi fare la mossa in più. Pubblica amministrazione aperta, partecipazione è la soluzione, visita il sito open.gov.it. Allora, partecipazione è la soluzione, partiamo da qui perché vi voglio dire che non potete intervenire a voce ma potete utilizzare la chat come state facendo da subito per interagire, per segnalarci eventuali problemi ma soprattutto per interagire con i relatori di oggi, chiedere approfondimenti, chiarimenti, curiosità sugli argomenti che affronteranno. Non è detto che riusciremo a rispondere a tutte le domande in tempo reale, perché come vedete in questo momento siete oltre 400 partecipanti, quindi ovviamente nei giorni scorsi non è stato possibile esaudire tutte le domande, però forse avremo la possibilità nelle prossime settimane di creare altre occasioni di questo genere per provare a risolvere qualche dubbio. Per le domande che stanno arrivando e che riguardano più problemi tecnici, per quanto riguarda le presenze verranno attestate nei prossimi giorni, non vi preoccupate, dalla settimana prossima troverete nella sezione miei eventi di eventi IPA le presenze attestate, potrete compilare i questionarii di gradimento e scaricare gli attestati. Per quanto riguarda i problemi di connessione purtroppo non dipende da noi, quello che posso dirvi è eventualmente mettete in pausa la webcam del relatore, se passate il mouse sopra la webcam vedete che compare il pulsante pausa, potete mettere in pausa il video e quindi recuperare un po' di banda e sentire meglio l'intervento. Maria Rosaria, l'audio si interrompe spesso, purtroppo dipende dalla velocità di connessione con cui si è collegata la stanza, non da noi. Sono le 12.05 quindi non voglio rubare troppo tempo ai relatori, per cui passo alla presentazione di questa giornata, il programma lo conoscete, però ve lo introduco dicendovi che tutte le IPA devono rendere i propri servizi online accessibili tramite Speed, questo ormai dovreste saperlo, soprattutto quelli di voi che lavorano nella pubblica amministrazione, in modo da favorirne e semplificarne l'utilizzo da parte dei cittadini. Nel webinar di oggi saranno presentati i requisiti che servizi digitali devono avere per essere efficaci e saranno fornite indicazioni su come le IPA possono implementare Speed, con ampio ricorso alle best practice delle amministrazioni che hanno già dimostrato di usare correttamente la nuova piattaforma, in particolare quindi avremo il piacere di avere Marco Bani, capo segreteria tecnica di Agi dell'Agenzia per l'Italia Digitale e poi due testimonianze, una del Comune di Venezia e una dell'Università della Sapienza che però vi introdurrò quando daremo la parola. Allora a questo punto io chiedo a Marco di attivare il suo microfono, nel frattempo carico anche la sua presentazione. Ci sono. Perfetto, allora Marco ti lascio la parola e chiedo ai colleghi della Sapienza di disattivare la loro webcam. Sì, buongiorno a tutti, grazie della partecipazione, ho visto anche il programma del Format che negli questi giorni ha comunque regalato un bel po' di eventi interessanti, speriamo che anche questo di oggi possa interessarvi, incuriosirvi e anche stimolarvi a vedere cosa stiamo facendo noi nell'Agenzia per l'Italia Digitale. Abbiamo voluto chiamare il programma di oggi, il programma di oggi, l'intervento di oggi, linee guida di design per i servizi web dell'APA e identità digitale. Questi sono due filoni, due progetti che stiamo portando avanti e vorrei partire, appena riesco a caricare anche le slide che sono abbastanza ricche di immagini quindi magari ci vorranno un attimo qualche secondo in più, volevo raccontare il contesto sul quale noi stiamo partendo, stiamo facendo un lavoro, introducendo una parola design che non è sicuramente qualcosa che si sente spesso tra gli uffici della pubblica amministrazione. Noi abbiamo cercato da ormai da un anno e mezzo con introduzioni di design.italia.it di stimolare quella che è la ricerca di un'esperienza anche nella navigazione dei siti della pubblica amministrazione, nell'esperienza di un sito web o di un servizio, a creare quelli che sono degli elementi non solo grafici ma anche proprio di comprensione, di semplificazione e altro che possono essere comuni e di supporto alle attività delle pubbliche amministrazioni nel loro rapporto quotidiano con i cittadini. Perché l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto perché partiamo da dei dati che purtroppo ci vedono all'ultimo posto in Europa, agli ultimi posti, non all'ultimo ma diciamo nella parte bassa della classifica, per quanto riguarda l'utilizzo dei servizi digitali. Il DESI che è il nostro benchmark più utilizzato, che è un framework europeo di valutazione e comparazione delle politiche digitali, ci attesta appunto nel venticinquesimo posto in quanto a servizi digitali. Il DESI è uscito tre giorni fa, quindi la settimana scorsa, quindi in qualche modo noi ora abbiamo ancora tanto d'accordo, abbiamo messo in moto dei progetti, delle strutture che cercano davvero di farci salire la china in quanto a utilizzo. Il paradosso che vi piace sempre raccontare è che di fronte a un scarto utilizzo, noi ne abbiamo un'offerta di servizi digitali molto ampia, quindi perché non andare a guardare quali sono anche i motivi che possono supportare un migliore utilizzo? Noi vediamo che c'è una carenza di connettività e quello si vede nel piano banda ultralarga e cerchiamo quello di recuperare. Poi c'è sicuramente un discorso anche di competenze digitali, che anche su questo è un altro filone, e poi c'è il terzo dei grandi ostacoli che è il terzo del mestiere. Eccomi scusate, ora mi dovete sentire. E vabbè sono gli intoppi del mestiere, non è diciamo anche per mettere un po' più di adrenalina e di attenzione, era anche un gioco che vedete se sarete attenti. Continuo dicendo che quindi il terzo ostacolo è sicuramente una migliore qualità del design e questo appunto vado veloce sulle indicazioni, queste sono le indicazioni sul desi del 2017, vediamo che abbiamo ancora molto da lavorare, sicuramente bisogna avere un approccio, e qui questa slide, con il cittadino al centro, che non deve essere un ritornello stanco, comunque qualcosa che sentiamo dire, proprio per riempirci la bocca di tendenze che aiutano al supporto dei servizi, ma deve essere veramente la modalità con la quale noi approcciamo la costruzione dei servizi. Vedete in questo slide che questa torta colorata ha comunque parte sicuramente dai bisogni, dalle necessità del cittadino. Vado veloce anche un po' perché in materia c'è tanto, quindi cosa comunicare, cosa inserire per far sì che i servizi e i siti web possano in qualche modo essere più utilizzati. C'è una frase, questa che mi piace sempre dire da parte del direttore della nostra collega, dell'agenzia collega dell'inglese, che è il Government Digital Service, che abbiamo modelli organizzativi del XIX secolo, quindi di due secoli fa, la tecnologia del secolo scorso, però abbiamo necessità di servizi di questo secolo, quindi ovvero noi riusciamo anche ormai con lo smartphone, chiamare un ristorante per farci portare un pranzo, oppure chiamare un taxi e altro, quindi c'è un'aspettativa di servizi migliori che la pubblica missione per restare comunque al passo anche del tempo deve erogare per far sì che ci possa essere sempre un migliore rapporto tra PA e cittadini. Come si può fare? Sicuramente questa profezia, sempre che viene dal nostro collega, sottolinea come anche la stessa ideazione di politiche in qualche modo deve passare dal service design. Io qui mostresso molte volte anche a un pubblico che spesso lavora nella pubblica amministrazione come siete la maggior parte di voi, che per design non si intende solamente la parte grafica, lo stucco e pittura dei siti o comunque la parte finale, ma per design dei servizi si intende tutto il processo di costruzione, di implementazione, di sviluppo dei servizi che in qualche modo devono essere portati avanti in parallelo, contemporaneamente, per far sì che poi alla fine il servizio che si è prodotto, diciamo, sia davvero utilizzato e non sia solo un capriccio, comunque una sfida di qualcuno esterno alle necessità dei cittadini. Comunque siete veramente impressivi, vedo ovviamente in una certa serie di critiche che ragazzi, piano piano ci stiamo provando a sistemare, non è facilissimo. Io allora partiamo con una semplificazione, partiamo con una metafora. Quando entrate in un ristorante, che è un'esperienza comune in tutto il mondo, quello che fate per primo è di vedere se ci sono i tavoli apparecchiati, vedere se c'è il cameriere che cortesemente vi porta al tavolo, se la cucina è chiusa, non si sentono gli odori, non si sentono le urla, magari il bagno appunto a destra, voi vedete questo ambiente, entrate e scegliete appunto di sedervi e di avere l'esperienza di mangiare. Se invece è una situazione diversa, entrate in un ristorante con una cucina che si sentono appunto le confusioni del cuoco, magari i familiari fumano, si trovano ancora i tavoli apparecchiati, la prima cosa che fate è fuggire, scappare e non tornare più, magari lasciare anche una recensione negativa sui tipo advisor, sui help e quindi non ci andate, non usufruite di quell'esperienza. Ecco, molte volte nei servizi e nei siti della pubblica amministrazione succede questo. Entriamo, non riusciamo a capire un po' per difficoltà anche di accessibilità, di usabilità, a usufruire di un servizio oppure a cercare una particolare informazione e quindi non si perde la fiducia anche di affrontare quello che dovrebbe essere un percorso facilitato, un percorso digitale e quindi si preferisce andare a fare la fila magari all'anagrafe o da altre parti, solo per evitare che ci sia quella frustrazione che ti vieta, che ti ostacola nel cercare quell'informazione e non di usufruire di quel servizio. Questa è una frase di Tim Cook, che è il capo della Apple, che in qualche modo è molto significativa per noi e anche per capire come approcciarci a questa nuova necessità di offrire servizi sempre più funzionali e essenziali. Tim Cook in un'alazio magistrale in San Milano, che ha tenuto un anno e mezzo fa, ha detto che guarda all'Italia come esempio di ispirazione, perché in Italia è la patria del design, perché c'è il miglior incrocio tra tecnologia e le arti liberali, l'attenzione ai dettagli, l'intersezione di forma, funzione, aspirazione e che appunto l'Italia significa che l'eccellenza non vuol dire produrre di più, non vuol dire fare tanto, ma produrre al meglio. Ecco, questo che mi ha fatto sorridere è come loro guardano loro, i Google, la Silicon Valley, guardano a noi come esempio da fare, mentre noi diciamo bisogna inventare come Apple, come Google, come le altre multinazionali digitali e invece basterebbe riscoprire un po' delle nostre anche peculiarità, della nostra capacità di comunicare, di creare utilizzando i migliori metodi, utilizzando le eccellenze che abbiamo per offrire qualcosa di valore. Ecco, questo era, per portare anche gli esempi pratici, siccome è uno scrolling un po' che dovete comprendere, questo era il sito del governo italiano fino a ottobre del 2015, quindi un anno e mezzo fa, meno di un anno e mezzo fa. Questo era un sito che non veniva cambiato da 13 anni e pensate che 13 anni in tecnologia è un'era geologica enorme, eppure non veniva, non è stato cambiato, utilizzava ancora una struttura molto arretrata anche di gestione delle formazioni indietro. Quello che abbiamo provato a fare insieme appunto a noi come ACID, ma con l'aiuto della presenza del Consiglio dei Ministri, è quello di un nuovo sito, che per non farvi aspettare oltre, questo risultato che potete andare a vedere, questo è uno screenshot, ma potete andare a vedere il sito di Palazzo Chigi, anche ora col vostro mobile, e abbiamo cercato di ridargli un'apparenza moderna, o meglio, del presente. E cosa è cambiato? Non è stato solamente un discorso di look and feel, di elementi grafici o altro. Vedete, noi, quel sito prima non aveva nemmeno una esperienza mobile, non si poteva navigare dal cellulare, c'erano le informazioni in un'architettura messa un po' a caso. Ecco, quello che abbiamo voluto fare è collaborare con la presenza del Consiglio, e rilasciare contestualmente delle linee guida, che potete trovare su design.taria.it, ma che ora le vedremo in dettaglio, per far vedere che se il sito principale del governo può cambiare, lo possono fare tutti. Questo è un forte messaggio, sia politico, ma anche di organizzazione e dei processi di cambiamento. E se vedete, questo nuovo sito ha elementi grafici, elementi strutturali anche che si possono ritrovare nei siti più utilizzati, per uno stop, altrucita o altro. Ma i social media sono in alto a destra, c'è la barra della ricerca in alto a destra. No, guardate, non cerco di non intervenire guardando anche la chat, ma questo non è costato pochissimo. Poi il menu, il burger menu è in alto a sinistra come per utilizzarlo al meglio durante la navigazione mobile. Ecco, questo è stato un esempio di come siamo riusciti, abbiamo affiancato l'attività amministrativa e anche dei loro sistemi informativi per riuscire a produrre qualcosa che possa essere davvero utilizzato al meglio. Abbiamo creato quindi, se vedete il design cui terra.it, delle linee guida che hanno portato a questa nuova infrastruttura, a questa nuova modalità di erogazione dei siti, che hanno un'attenzione particolare appunto al, non solo elementi visuali, ma anche elementi di disabilità e di accessibilità e non è finita qua. A ruota sono cambiati molti dei siti delle amministrazioni centrali in un cambiamento che anche noi ci ha sorpreso in quanta velocità, anche pensiamo sempre a siti elefantiaci anche che non riescono a cambiare facilmente, invece in successione, vi faccio vedere alcuni esempi, sia il Ministero per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione, questo è il sito vecchio e questo è il sito nuovo. Sia il MIT, questo è il Ministero di Infrastruttura e del Trasporto, che è cambiato e vedete questo è il nuovo sito che potete vedere anche ora. Sia il Nibact, questo è il sito della Direzione dei Musei, questo è il sito che c'è ora, ma sia anche, faccio fare l'esempio del Ministro degli Interni, è andato a vedere il Ministero del Lavoro, è andato a vedere il Ministero anche degli Affari Esteri, insomma un lavoro di tessitura e di offerta anche di buone pratiche che ha condiviso tutta l'amministrazione centrale e che ha voluto dare degli elementi coerenti ma non omogeni. Cosa vuol dire questo discorso qua? Vuol dire che non è che si dà un sito di Stato e tutti devono utilizzare quello, ma per le peculiarità proprio dell'amministrazione, sia centrali che locali e anche per la volontà di renderlo anche più personalizzabile possibile, ci sono degli elementi grafici di struttura che devono essere in qualche modo obbligatori, come per esempio la fascia in alto per dire in quale amministrazione stai vedendo, appunto i social devono essere sempre in alto a destra, ci deve essere la barra della ricerca delle informazioni, che quindi è un qualcosa che tu sai che stai navigando in un sito della pubblica amministrazione. Poi ci sono alcuni elementi comuni come il footer, ma quello che abbiamo voluto fare oltre è andare anche a, scusate ma a difficoltà nello scrolling, anche andare a aiutare le realtà locali. Quindi ripeto, noi come agenzia non facciamo, a parte il primo caso pilota, supporto al sito, noi cerchiamo di lavorare con le pubbliche amministrazioni per recepire anche le loro istanze, costruire linee guida chiare e semplici che possono aiutare l'amministrazione, possono accompagnarle verso anche un rifacimento del loro sito secondo quello che sono i standard più utilizzati e un'identità grafica coerente. Se vedete design.putera.it è una community, questo è un elemento in più, ovvero cosa vuol dire? Che tutto il testo delle linee guida è continuamente in cambiamento, ci sono stati anche dei cambiamenti sul testo, ci saranno delle release, ci sono un continuo miglioramento, chiunque può dire la sua, perché avete certo quel colore, perché invece di levare il burger meno sì, burger meno no, ecco, quindi c'è uno spettro anche di scelte, dal quale alcune sono magari più impositive, altre magari si lascia la scelta dell'amministrazione, però chiaramente non c'è ancora una bollinatura dell'agenzia digitale che dice questo sito è conforme, è un contributo che si vuole dare proprio per evitare che questo lavoro lo facciano le singole amministrazioni. La seconda release è stata con le linee guida per i siti degli enti locali, la regione Sardegna sta attivando anche la loro trasformazione da questo a questo, quindi vedete che anche in questa seconda versione ci sono degli elementi coerenti con quello che vi ho fatto già vedere, ma il bello anche qua che ci sta anche un po' sorprendendo è quello di vedere, di sentire comuni da più piccolo a più grande che annunciano soddisfatti il passaggio a un nuovo sito che è aderente alle linee guida, aderente secondo appunto quelli che non passano da noi, dal livello centrale che ti dà il bollino, ma che hanno pedisticamente seguito quelle che sono le linee guida che mi abbiamo fornito sempre su design.italia.it. Poi vedete questo elemento, invece il footer per esempio, anche per sapere le informazioni dove sono portare la trasparenza, i contatti, questo deve essere comune fra tutti, questo è ben spiegato, anche il linguaggio che noi utilizziamo nelle linee guida è molto sintetico, molto semplice, molto chiaro per tutti, deve essere così, non è qualcosa di lungo da leggere, ma è vero, è messo per impostazioni altre. Come vi dicevo, design in a community a quale si affiancherà anche una community di sviluppo, di supporto ovvero anche all'erogazione di codice, vi ho detto che per ora abbiamo fatto solo delle linee guida, invece faremo anche del codice, dei modelli che possono aiutare i comuni che andavano partiti da zero e che infatti possono utilizzare dei template, appunto dei modelli che sono già aderenti alle linee guida. Queste community sono chiaramente, devono seguire una volontà di migliorare sempre e non solo quindi rivolta a design e sviluppatori, ma a chiunque, anche chi lavora nella FIA, voglia dare un proprio contributo. Questa è una sintesi della timeline con la quale abbiamo approcciato questo progetto. A novembre 2015 abbiamo rilasciato le prime linee guida e contestualmente anche il sito del governo italiano, poi sono andati online le amministrazioni centrali, quelli che erano più avanti anche ovviamente nel cambiamento, ma già ad avere quasi una decina di ministeri è sicuramente in un anno e mezzo una cosa impensabile anche al lancio del progetto, senza finanziamenti, senza niente, senza risorse o altro, con proprie risorse. Poi a giugno 2016 abbiamo rilasciato appunto le linee guida per i design per le amministrazioni locali e vediamo ora un fiorire piano piano, cercheremo anche di capire come accompagnare al meglio questa trasformazione. Questo è uno screenshot che potete vedere nel design.area.it, vedete è così, è uno screenshot semplicemente, vedete ci sono qualche elementi che devono essere caratterizzare un sito internet della pubblica amministrazione. I principi che abbiamo scelto di seguire ovvero sono quelli di cercare di migliorare l'offerta, perché ultimine l'offerta ultimina domanda è il discorso che vi dicevo prima, che abbiamo tanti siti, abbiamo tanti servizi, ma non abbiamo poi utilizzatori, quindi miglioriamo l'utilizzo e cerchiamo di farli davvero, farli bene e farli belli, belli nel senso belli da vivere, belli come esperienza, ma è una missione oltre che estetica anche etica, perché se il sito viene utilizzato, se il servizio viene in qualche modo utilizzato dai cittadini, sicuramente si migliorerà anche il rapporto di fiducia che c'è tra cittadini e amministrazione, perché non si cercherà di eliminare ogni elemento di frustrazione, ogni elemento di attrito e ci sarà davvero un rapporto quotidiano quella pubblica amministrazione più facile, più semplice, più veloce, quindi quegli servizi devono essere da vivere oltre che da utilizzare per costruzione. Ora io non dico che per pagare una multa bisogna essere soddisfatti, ma se è appagato, ma se in qualche modo non si evita di creare complicazioni, sicuramente anche il pagamento di una multa può risultare più più veloce, più semplice. Andiamo oltre, ecco, qua siamo andati avanti, questo è ancora in fase di sperimentazione, come anche le mie guida, sono in alfa e in beta, speriamo che escano, cosa vuol dire alfa e beta? Alfa vuol dire proprio che ancora appunto non abbiamo niente da rilasciare, abbiamo solo del testo per supportare al momento ancora in maniera poco, poco diciamo stringente le pubbliche amministrazioni, una beta vorremmo almeno rilasciare quei template, quei modelli che vi dicevo. Poi un altro passaggio che stiamo facendo è anche di supporto con le mie guida sui servizi, quindi non più solamente web design, ma anche service design. Questo è stato lanciato a breve, a ottobre del 2016, quindi non nemmeno sei mesi o poco più. I principi sono questi, anche questi li vedete su design.era.it, sono stato frutto anche di una consultazione, di una partecipazione perché erano contestuali all'Open Government Action Plan, il quale rientra anche questa settimana. Vedete che i principi sono 5, quindi anche qui non un tomo da leggere o altro, ma sono veramente delle indicazioni, delle volontà che abbiamo cercato insieme anche ovviamente alle amministrazioni di offrire nel far capire come andare, quale percorso intraprendere per far sì che si fassano creare dei servizi che si utilizzeranno. Quindi i principi prima cittadini tutti vuol dire che si deve cercare di eliminare tutti gli ostacoli di qualsiasi natura, questo è anche un po' una redizione dell'articolo 3 della Costituzione, eliminare tutti gli ostacoli che in qualche modo evitano la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e se si va sempre di più verso una digitalizzazione anche del nostro rapporto, sicuramente bisogna capire come promuovere al meglio i servizi e questa partecipazione e anche pensare a chi non può partecipare al meglio in Italia, questo è importante. Innovativi per tradizione, dialogare per migliorare, questi potete leggere tranquillamente se sono scritti in un linguaggio che è complessibile a tutti, proprio perché sono principi che devono guidare tutti, non solo chi deve procurare servizi, nella comprensione anche di cosa chiedere, se i cittadini cominciano a chiedere servizi più sicuri, più semplici, più veloci, sicuramente ci sarà un'attenzione maggiore. Vado oltre, poi appunto 5 principi e 10 strategie per attuarli, questo a livello di tecnicismo più elevato, anche questo potete aprire, ho esploso una delle 10 strategie, vedete che sono semplici, sono poche righe, però danno un'idea anche delle indicazioni. Vi faccio un esempio, quando dico comunica efficacemente, spesso ovunque, vuol dire che non, per esempio anche per sviluppare dei canali di comunicazione con il cittadino, non dovete creare altri canali, ma sfruttare quelli che già ci sono e qui mi rivolgo a social media, social network e altro, quindi andare dove veramente il cittadino è, quindi capire anche prima i suoi bisogni, come si diceva anche all'inizio e costruire sui bisogni e su come opera, proprio questi servizi. Vado oltre, chiudo dicendoci gli ultimi 5 minuti, poi lascio la parola a Alessandra che in qualche modo ha anche fatto partire tutto questo e vediamo come poi riuscite anche a implementarli. Speed è la porta di accesso ai servizi, è una delle cose più importanti. Speed compie un anno il 15 di marzo, quindi rifaremo i festeggiamenti e in qualche modo viene volgarmente chiamato pinunico, perché volgarmente? Perché è un pochino più complicato di questo, ma può dare l'idea di avere un'unica password, un'unica leader name per accedere a, per adesso, a tutti i servizi della pubblica amministrazione e in futuro, in un futuro prossimo anche ai privati. Perché abbiamo, perché si è creato Speed? Speed appunto permette un utilizzo più semplice dei servizi, perché non bisogna ricordarci tutte le N credenziali con le quali noi ci siamo iscritti all'Inps, all'Inail, servizi locali e altro, ma attraverso appunto l'utilizzo di Speed si potrà in qualche modo dimenticarci dei post-it o delle altre, diciamo, noti, le altre note che noi mettiamo in qualche parte per ricordarci le password. Con un unico username, un unico password è anche più facile questo. Speed è sicuro perché appunto rientra anche in un contesto di sicurezza da parte dell'europeo, è già compliant a EIDAS, che è un po' il framework normativo col quale ci chiedono una sicurezza stringente, ovviamente sarà molto più difficile entrare con Speed, ovviamente non è molto più difficile, è molto meno facile entrare con Speed che con un forzi di social network, però è molto più sicuro, non c'è profilazione, non c'è tutti quei, dovrei aprire un altro parere, non ci sono quei rischi che si corrono quando si entra solamente con magari un account del nostro social network preferito. E poi è veloce perché appunto si può utilizzare Speed anche su mobile e non c'è quell'ostacolo di essere davanti a un computer per utilizzarlo. A che punto siamo? Speed ha 5 identity provider accreditati, ovvero non c'è un gestore unico nazionale dell'identità, ma proprio per garantire anche una sostenibilità di tutto il progetto, ci si rivolge a uno dei 5, i provider accreditati, ovvero quelli che ergano poi l'identità, che ti riconoscono che sei per esempio Marco Bani e che certificano che tu sei quella persona lì, i 5 sono Team, Sielte, Info, Certa, Ruba e Poste, si possono scegliere anche tutte e 5, diciamo come avere 5 carte di credito che si può avere anche 5 identità, basta poi quando si entra, si entra e viene riuscito non come Marco Bani o di Poste o di Team o di Sielte, ma come Marco Bani. Abbiamo già 3.620 amministrazioni attive, quindi comunque siamo soddisfatti, la normativa prevede che ci sia all'utilizzo di Speedlink entro il 2017. Abbiamo a bordo 4.273 servizi, quindi è già un bel passo in avanti sicuramente e ci sono l'Inps, può entrare nei servizi dell'Inps, nei servizi di A730. Sparito l'audio, Marco se puoi riattivare il microfono, è sparito, Marco scusami, intervengo dalla regia per dirti che è sparito l'audio, si è disattivato temporaneamente il tuo microfono e si è anche bloccato temporaneamente il video. Allora, comunque eravamo quasi in conclusione di questo intervento, per cui se Marco non riesce a ricollegarsi in tempi rapidi, io passerò all'intervento successivo e eventualmente poi le conclusioni di questo intervento le possiamo rimandare alla fine degli interventi degli altri relatori. Va bene, sì, allora direi di passare all'intervento successivo, Marco se stai ascoltando e comunque te lo scriverò dopo in chat privata, rimandiamo alla fine dell'intervento a dopo. Vedo la dottoressa Alessandra Poggiani in webcam, le chiede di attivare il suo microfono e intanto che carico la presentazione introduco molto velocemente il suo intervento, la dottoressa Alessandra Poggiani che è stata citata precedentemente anche da Marco Bani, è attualmente direttore generale di Venice, Venezia Informatica e Sistemi, cioè l'azienda di servizi ICT del Comune di Venezia, è stata citata da Marco perché un paio di anni fa era direttore generale di Agide e quindi è stata proprio lei a mettere in moto tutta una serie di iniziative di cui poi Marco oggi vi stava parlando. Alessandra le lascio la parola e buon intervento, le rubo soltanto a qualche altro secondo, chiederei a tutti i partecipanti, ma veramente ve lo chiedo con massima di collaborazione, cercate di utilizzare la chat per interagire in modo costruttivo con i relatori, alcuni di voi stanno utilizzando la chat in maniera estremamente polemica, cosa veramente poco opportuna per un incontro del genere che deve essere un seminario formativo e informativo su temi che dovrebbero interessare a tutti voi. Finora abbiamo tollerato questo atteggiamento, non credo che riusciremo a tollerarlo fino alla fine del webinar. Prego dottoressa. Buongiorno, buongiorno, io tra l'altro mi allaccio all'intervento di Marco per portare un esempio che abbiamo realizzato qui a Venezia anche in collaborazione con Agid ad aprile direi dell'anno scorso, si è poi concretizzato da giugno ed è un esempio che tiene insieme le linee guida di cui ha parlato Marco e sugli obiettivi delle quali non aggiungerò altro perché mi pare che il suo intervento sia stato molto chiaro e l'opportunità del sistema pubblico di identità digitale, lo SPID, per abilitare servizi all'interno di un ambiente più usabile e accessibile da parte dei cittadini e delle imprese. Il concetto fondamentale dietro questa registrazione che è stata complessiva della presenza online del Comune di Venezia è stata quella di utilizzare l'occasione delle linee guida e dello SPID per provare a pensare a un sito che fosse più possibile simile a quello dei privati rispetto allo standard che anche Marco prima vi ha illustrato dei siti pubblici. Perché? Perché come Marco diceva abbiamo e purtroppo è stato confermato dall'indice DESI di quest'anno appena uscito un tasso molto basso di utilizzo dei servizi pubblici online, peraltro appunto col paradosso invece di essere uno dei paesi dell'Unione che ha più servizi pubblici disponibili online e questo sicuramente ha una componente di scarsa competenza e poca diffusione dei servizi nella popolazione, ma a nostro avviso trova anche ragione nella difficoltà di interagire con i siti della pubblica amministrazione che sono sempre o molto spesso mappati sulla struttura dell'ente, quindi sulle funzioni dell'ente e meno invece in maniera intuitiva rispetto a quello che cittadini e imprese cercano rispetto ai servizi della PIA sui loro siti. Di questa è stata l'idea centrale e quindi quello di cercare di passare questo che vedete nelle slide, è il vecchio sito portale del Comune di Venezia, a una PIA con un design centrato su se stessa e quindi che espone i propri servizi pensando alla propria organizzazione, pensando alla propria anche gerarchia di funzioni, passare da questo a una presenza centrata sull'utenza, quindi un design user centered che cercasse di chiedersi prima cosa cercano gli utenti nel portale comunale e usare questo come metro dei contenuti. Per fare questo ed entrare più sul pratico, grande sforzo e analisi è stato destinato all'analisi di quelle che erano le visite, le interazioni e i servizi più utilizzati del sito precedente, oltre a quello di aver utilizzato degli alpha group di utenti per cercare di capire quali erano le difficoltà maggiori di interazione. Vedo nella chat che viene richiesto da qualcuno quali sono i servizi attivi a Venezia con lo speed, ci sono oggi le iscrizioni scolastiche, la prenotazione della carta di entità elettronica, tutti i certificati anagrafici e demografici, quindi dalla residenza piuttosto che a certificati di nascita. ci sono le autorizzazioni per i trasportatori, questo è un servizio che mi rendo conto per altre città essere un po' oscuro, noi abbiamo come sapete acqua e terra e quindi trasportatori che si devono muovere dalla terra ferma alla laguna, hanno bisogno di un processo autorizzatorio che è disponibile lo speed, la iscrizione oltre che alla scuola, alle aziende, alle scuole comunali anche alle menze scolastiche e poi c'è l'utilizzo del wifi pubblico, i 250 spot di wifi, le credenziali per accedervi sono speed e tra gli altri servizi ci sono anche quelli dei tributi e del cambio di residenza e domicilio. Non so se me ne sono dimenticato qualcuno, comunque il sito a disposizione www.un.comune.net.it li potete trovare da soli e l'obiettivo è entro giugno di quest'anno di completare la migrazione di tutti i servizi che esistono e che ancora non sono stati connessi allo speed. Peraltro a vantaggio di quelli che seguono questo webinar e che provengono da enti locali, noi abbiamo realizzato un connettore servizi con lo speed con tutti gli elenzi provider che abbiamo messo in riuso e che già altre amministrazioni come il Comune di Firenze e il Comune di Reggio Calabria hanno utilizzato, che appunto noi a titolo presunto mettiamo ovviamente il riuso per tutti quelli che vogliono utilizzarlo. Ritorniamo a quello che vi stavo presentando, cioè la nostra realizzazione in chiave utente e per questo per esempio l'home page non è più destinata alle news o alla presentazione del Comune, ma un primo blocco che è completamente disegnato sui servizi. Quindi abbiamo privilegiato i servizi rispetto alle informazioni sul portale. Questo anche perché pensiamo che il sistema pubblico di identità digitale sia importante, sia molto importante la sua diffusione. Pensiamo che adesso che sono fatto lo sforzo di realizzarlo non sarà possibile una sua diffusione capillare, finché non ci saranno un numero di servizi importante che giustifichi, non dico il fastidio, ma comunque il fatto che le persone occupino il loro tempo per prenderlo e certamente questo sarà più facile una volta che i servizi anche per i dati, come quelli dei trasporti per esempio, o quelli bancari, attiveranno lo speed, ma più sono i servizi pubblici e più si trova un vantaggio. Oggi un cittadino veneziano può fare la dichiarazione IMU, può iscrivere i suoi figli a scuola, può scaricare comodamente anche da cellulare i suoi certificati anagrafici e con la stessa password guardare il suo fascicolo previdenziale sul sito dell'Inps o pagare le sue imposte o avere il rimborso delle sue imposte sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Non è moltissimo ma è un passo importante. vi dicevo che abbiamo quindi prefineggiato anche per questo motivo i servizi e abbiamo cercato di georeferenziarli, quindi troverete sul nuovo sito che ormai non è più tanto nuovo perché sono ormai più di sei mesi del Comune in Venezia che servizi, sportelli e informazioni sono georeferenziate, questo ha una particolare importanza in una città come la nostra che ha una dimensione in termini di chilometri molto ampia e anche una sua declinazione tra terra terma, lagune e isole particolare però può essere sicuramente… Allora intervengo un attimo dalla regia, questo sta diventando veramente un webbiene più complicato di tutta la settimana, un po' per problemi tecnici, un po' per veramente anche la maleducazione di alcuni partecipanti in chat che stanno addirittura mettendo in discussione la pertinenza degli argomenti affrontati con l'argomento. Se non avete letto neanche il titolo del webinar vi chiediamo anche di lasciare la stanza ma senza alcun problema. Dottoressa Poggiani, se è bloccata la sua webcam, le chiederei di chiudere la webcam e riattivarla e provare a rintervenire. Allora, si è bloccata per un istante. Prego dottoressa. Se li sentite, si è proprio chiusa l'applicazione. Adesso si, eccoci. Andiamo avanti. L'altra cosa importante che abbiamo ritenuto essere molto importante e anche questo dopo un'analisi condotta sull'utenza, abbiamo ormai moltissimi cittadini che si collegano al portale sia in termini di servizi sia in termini di informazione da un desktop e che quindi diciamo era molto urgente portare sia informazioni sia servizi in un ambiente responsive e quindi facilmente utilizzabile da cellulari e da tablet, cosa che ancora non è così diffusa per i siti della pubblica amministrazione. Lo speed, vi faccio vedere un esempio di come lo abbiamo utilizzato e vi ricordo perché appunto può essere importante per alcune amministrazioni, ho visto dalla chat che ci sono alcune amministrazioni che diciamo hanno anche un tema di risorse economiche da investire per poter realizzare alcuni miglioramenti. Il connettore che adesso vi faccio vedere in un suo utilizzo è il riuso gratuitamente per tutte le amministrazioni. Certamente è più comodo per amministrazioni comunali perché è stato pensato su servizi comunali però solo possono utilizzare anche altri così come sono a disposizione il riuso per i nostri CSS in Drupal per un sito responsive e compliance con le linee guida. Anche qui alcuni comuni per il comune di Marino o il comune di Reggio Calabria li hanno già utilizzati. Vi vado avanti e vi faccio vedere un esempio di utilizzo di speed sull'anagrafe e quindi su tutti i servizi democratici del comune di Venezia che sono anche la prima intertaccia tra cittadini e amministrazione. Peraltro importante noi abbiamo già diffuso moltissime carte di identità elettronica, c'è stata una bellissima risposta della popolazione alla nuova carta di identità elettronica e voi sapete che chi ha una carta di identità elettronica, i possessori di carta di identità elettronica possono acquisire uno speed senza il riconoscimento visivo e quindi possono fare tutta la procedura online molto facilmente. Andando all'utilizzo pratico, vi faccio vedere delle schermate perché così è più semplice, andando nell'anagrafe semplice online nel comune di Venezia è possibile richiedere tutti i certificati di anagrafe di stato civile entrando con lo speed. Quindi si clicca entrando con lo speed, ovviamente noi abbiamo messo a disposizione il servizio anche con la carta nazionale dei servizi che è più diffusa tra le imprese rispetto che lo speed e ci sono alcune categorie professionali come gli avvocati che hanno bisogno di poter accedere ai certificati in maniera massiva. Vedo dalla chat che ci chiedono se usiamo speed anche per l'accesso indipendente alla nostra internet, lo facciamo per quanto riguarda Venice, per quanto riguarda il comune di Venezia, la parte di migrazione della intranet l'altana non è ancora conclusa ma lo faremo, lo stiamo facendo. Una volta cliccato su questa schermata si accede direttamente all'inserimento delle credenziali, in questo caso stiamo parlando di poste italiane ma ovviamente funziona con tutti gli altri identity provider. Per rispondere a Ciro non c'è nessuna differenza tra carta nazionale dei servizi e speed, tutti i nostri servizi possono essere acceduti da entrambi i sistemi. Una volta accreditatoci con lo speed comparirà questa schermata, è possibile richiedere i certificati come la legge prevede sia per se stessi sia per un'altra persona, se si richiede per un'altra persona il certificato bisognerà dichiarare qual è l'uso. Dopodiché una volta richiesto il certificato che ci serve, comparirà quest'altra schermata dove il certificato viene prodotto, può essere o scaricato o visualizzato a schermo, può essere ovviamente se scaricato o anche stampato, il certificato è firmato digitalmente e che possiede un QR code che ne attesta la originalità e affidabilità e verificabilità. Vedo dalla chat che qualcuno chiede che cosa cambierà col passaggio a NPR, si cambierà qualcosa perché in questo momento noi possiamo far scaricare e offrire certificati online tramite l'anagrafe semplice e lo speed soltanto per quei certificati che sono in possesso ovviamente dell'anagrafe e dei servizi demografici del comune di Venezia. Faccio un esempio, qualora un cittadino veneziano si fosse sposato in un comune diverso dal comune di Venezia, il certificato di matrimonio viene in questo momento conservato nell'anagrafe del comune dove egli o ella si sono sposati e viene trasmesso all'anagrafe che appartenenza è soltanto in un secondo tempo, quindi è possibile che se qualcuno si è sposato 15 giorni fa non possa scaricare il tuo certificato di matrimonio direttamente online dal comune di Venezia in questo caso. La NPR invece ci consentirà di accedere ai dati in tempo reale su tutte le anagrafi, essendo l'anagrafe nazionale, quindi non ci saranno più certificati che non è possibile richiedere la propria anagrafe, però questa è una differenza, sono differenze che esistono anche a sportello, cioè anche a sportello alcuni certificati, per esempio io sono residente a Venezia ma sono nata in un'altra città, il mio certificato di nascita se lo vado a chiedere o allo sportello o online non è direttamente disponibile perché è conservato in un'altra anagrafe. Bene, volevo anche mostrarvi che come vi ho detto prima abbiamo fatto la scelta che il sito istituzionale sia un sito centrato sull'esigenza dell'utenza e quindi molto indirizzato ai servizi. Questo ha ovviamente comportato che lo spazio per le news, per gli eventi e anche per i comunicati stampa, le comunicazioni delle amministrazioni all'interno del portale istituzionale si sia molto ridotto. Per ovviare a questo abbiamo creato un spazio che si chiama Live, accessibile direttamente dall'home page, in cui invece tutto lo spazio, come un wall, è dedicato alle notizie, ai comunicati stampa, agli eventi e ai social feed del comune. Quindi questo spazio si è semplicemente destinato a un canale diverso perché immaginiamo che il portale del comune sia uno spazio dove i cittadini e le imprese residenti cercano servizi e informazioni di servizio, mentre le news potessero avere un loro canale privilegiato. Allo stesso modo abbiamo, questo nel nostro caso ma è il caso di molte città d'arte italiane, cercato di non confondere le informazioni turistiche e l'e-commerce del comune di Venezia, e l'e-commerce destinato per esempio ai trasporti pubblici, agli eventi e ai musei del comune di Venezia che possono essere acquistati online attraverso Venezia Unica. Anche su questo abbiamo preferito un canale parallelo che quindi non confondesse e non compromettesse l'identità del portale di servizio per i cittadini e che quindi trovasse un suo canale definito ovviamente in questo caso in un stilingue e con un altro indirizzo ancorché accessibile direttamente dall'onpega anche del portale istituzionale. Vedo che ci sono domande sul riuso, come ho detto prima noi abbiamo messo in riuso sia i CSS che sono in Drupal del sito del portale che quindi possono essere utilizzati da tutti i comuni che volessero, sono sia nel catalogo del riuso sia disponibili all'interno della community quindi design.italia.it amministrata e gestita dall'Agid e abbiamo messo in riuso anche il connettore per i servizi speed che interfaccia i servizi con gli identity provider. Quindi questo lo trovate e chi fa parte di un'amministrazione può utilizzare quello che abbiamo fatto in maniera gratuita. Per concludere Marco ha in maniera più approfondita prima descritto bene a cosa servono le guida di design per i siti web della PIA che appunto sono disponibili sia per le pubbliche amministrazioni centrali che per quelle locali c'è una community molto ricca all'interno di design.italia.it che non solo mette a disposizione supporto gratuitamente ma mette a disposizione proprio anche componenti come ho detto prima i nostri CST sono a disposizione ce ne sono anche altri quindi tutte le amministrazioni che volessero potranno utilizzarle in maniera gratuita e diciamo sicuramente con un po' di sforzo interno però diciamo con un investimento economico molto contenuto possono percorrere lo stesso cammino che abbiamo fatto. Su questo sia sull'utilizzo di speed sia sulla rivisitazione dei propri siti c'è da dire che sicuramente c'è un'innovazione tecnologica che richiede alcune competenze ma dal nostro punto di vista lo sforzo più grande è stato quello organizzativo perché come dicevo prima mappare contenuti e servizi rispetto alle esigenze dell'utente è molto complicato finché le amministrazioni sono organizzate per funzioni e quindi hanno un'architettura che è molto diversa dall'architettura dei contenuti a cui si deve tendere per rispondere a quelli che sono poi bisogni informativi e di servizio dei cittadini. Vedo dalla chat che c'è qualcuno che chiede se i template sono disponibili anche su Joomla non che io sappia, i nostri come ho detto sono Loupal, peraltro Loupal è anche il sistema consigliato dalle linee guida, ovviamente le linee guida e i template possono essere migrati anche in altri ambienti sicuramente possono essere facilmente migrati, vedo che viene chiesto questo su Wordpress. Per quanto riguarda invece la domanda sull'ordine di grandezza dello sforzo economico noi abbiamo speso intorno ai 20.000 euro ma abbiamo fatto tutto da capo. Se un'amministrazione utilizza CSS e connettori speed messi in riuso potrebbe provare se ha un po' di competenze interne a non avere costi se non quelli ovviamente del personale che sono sicuramente anche quelli costi in termini di effort e di tempo ma potrebbe anche c'è oggi la possibilità di percorrere questo cammino e di realizzare un nuovo sito con una gestione diversa dei contenuti e con dei servizi nativamente disponibili su speed senza acquisti esterni. Io se non ci sono vedo che c'è qualche domanda su social media manager questo non lo gestiamo noi, noi siamo la società tecnologica quindi noi abbiamo messo la piattaforma e ci occupiamo di tutti i connettori, di tutte le tecnologie oltre che della realizzazione dei CSS e della grafica per quanto riguarda i contenuti di tipo news, social e di altro tipo se ne occupa l'ufficio comunicazione del Comune di Venezia che viene abilitato da strumenti noi abbiamo anche realizzato per loro un bot telegram e un servizio di alert per i cittadini che si iscrivono ma i gestori sono direttamente all'interno del Comune di Venezia così come un altro degli sforzi organizzativi fatto a valle della realizzazione del sito è quello di definire i profili di editor dei contenuti e una redazione diffusa all'interno di diversi uffici del Comune di Venezia per poter contare su un aggiornamento delle informazioni di servizio sempre aggiornato. Vedo la domanda, no, 20.000 euro mi riferivo a tutto il rifacimento del portale del Comune di Venezia incluso il canale on news, incluso la registrazione del sito per il turismo e incluso anche il connettore e i connettori per migrare i servizi sul speed invece che sulle credenziali precedenti. Mi pare che il tempo a disposizione sia concluso. Vedo che per avere il connettore speed di riuso dovete scriverci o a noi o ai sistemi informativi del Comune di Venezia chiederlo il riuso o è sul catalogo del riuso del Comune di Venezia. Grazie mille dottoressa Poggiani per l'esostività del suo intervento e soprattutto per essere riusciti a gestire anche in tempo reale le altre... Scusate chiedo ai colleghi della Sapienza di disattivare il microfono temporaneamente. Tutto molto chiaro, complimenti, grazie. se qualcuno ha bisogno di informazioni su come richiedere il riuso. Ve lo scrivo, venis. Arrivederci! Grazie mille, grazie mille per il suo intervento. A questo punto vi vedo ai colleghi della Sapienza. Perfetto, vi lascio la parola. Non vi sentiamo? Franco, ti chiederei di verificare la corretta attivazione del microfono. Ci siamo? Si sente? Ripeto, buongiorno a tutti. Sono Marco Vistanti, sono il presidente di Infosapienza. Qui con me c'è la dottoressa Giovane, che è il direttore di Infosapienza, e il dottor Franco Ricci, che è responsabile degli sviluppi software per quanto riguarda i servizi informativi. Che poi vi intratterrà sulla parte un po' più tecnica di questo intervento. Lo scopo di questa chiacchierata è quello di presentarvi un'esperienza. Noi abbiamo sviluppato Speed, l'abbiamo messo in servizio per quanto riguarda gli studenti nel giugno scorso e quindi la prima parte, quello che dirò io, vi darò un po' di dati e trasferire qualche, a livello macroscopico, l'esperienza che abbiamo fatto, alcuni dati. E poi il dottor Ricci, vi intratterrà su una proposta che noi abbiamo chiamato, vedete qui nel titolo, Easy Speed, che ha come scopo quello di fornire a chiunque, in particolare alle pubbliche amministrazioni, magari di piccole dimensioni, la possibilità di un'implementazione rapida e semplice di Speed, adesso cercando di superare alcune difficoltà che noi stessi abbiamo incontrato nella fase di sviluppo. La prima, due parole su InfoSapienza. InfoSapienza è il centro dell'Università di Roma Sapienza che ha in gestione praticamente tutti i servizi informativi di Speed, sia dal punto di vista della gestione, sia soprattutto per lo sviluppo. InfoSapienza ha come organico circa 70-80 persone che sono dedicate sia allo sviluppo sia alla gestione dei sistemi. I contenuti che già ho brevemente accennato di questo intervento sono presentare il perché proponiamo questa evoluzione di Speed, non tanto nelle funzionalità, quanto nella possibilità di implementarlo in modo semplice, che noi abbiamo chiamato Easy Speed, quindi è una semplificazione che serve per adottare più rapidamente, in modo più economico, con molto minore sforzo di sviluppo delle funzionalità di Speed. È un servizio che può essere utilizzato sia in cloud sia localmente, ma ci torneremo dopo su questo punto. Speed è stato implementato da Sapienza fin dal giugno dell'anno scorso, quindi abbiamo un'esperienza di circa un anno, questo a seguito dell'accordo che abbiamo firmato con il Ministro Madia, che ha dato il via a questa esperienza. È la prima Università d'Italia che si è dotata di questa tipologia di accesso. Tanto per parlare di cifre, Sapienza ha oltre 100 mila studenti attualmente iscritti. Noi abbiamo implementato in questa fase Speed come accesso all'alternativo, a quello classico con il username e password, per i servizi dedicati agli studenti. Noi abbiamo un applicativo gestionale studente che si chiama InfoStud, come vedete qui nella slide, e questa, quella che li vedete, è oggi la maschera di accesso ai servizi InfoStud, che comprendono praticamente tutte le pratiche che uno studente deve fare, da discrizione all'immatricolazione, valutazione esami, gestione esami, richiesta certificata e quant'altro. Quindi questi sono i servizi che oggi Sapienza, a cui un studente può accedere tramite Speed a Sapienza. In generale, poi oltre i 100 mila studenti iscritti abbiamo circa un milione di studenti, di ex studenti che saltuariamente per varie esigenze, per esempio i certificati che servono nella vita normale, accedono a questo servizio e anche loro possono utilizzare questo tipo di accesso. Quindi vedete un accesso alternativo. I dati che vi do adesso sono quelli relativi agli accessi che abbiamo avuto, gli accessi tipo Speed che abbiamo avuto in questo anno, circa anno, insomma, nove mesi di utilizzazione del servizio. Come vedete abbiamo un numero di accessi globale, se lì non c'è la cifra globale, dell'ordine di circa 4.000, 3.800 circa, che ovviamente vanno, essendo un servizio legato agli studenti, si concentrano nei mesi in cui ci sono il tasso più alto riguardo alle iscrizioni e le matricolazioni e quant'altro, vedete quei picchi di traffico di accessi dell'ordine di circa, di oltre 500 accessi al mese. Certo, se confrontati, quindi il numero di accessi globale in nove mesi sono circa 4.000, se confrontati ovviamente con il numero di accessi allo stesso applicativo, fatto con un istituto nel quarto, è una percentuale molto, molto, molto bassa. Questo perché chiaramente la difficoltà maggiore non è tanto dare la possibilità di accedere, questa è la prima esperienza, la prima conclusione a cui uno può arrivare, non è tanto dare la possibilità di accedere tramite Speed ad un servizio, ma l'utente deve essere in grado di farlo, quindi il problema è quello tanto di fornire identità digitale, in questo caso agli studenti. Il programma della sapienza è quello di innanzitutto allargare quanto più possibile al proprio interno l'accesso tramite Speed ai nuovi servizi e questo allargandoli sia a tutti gli altri servizi degli studenti ma anche a tutti gli altri servizi riguardo il personale docente e non docente. Questo è l'obiettivo che abbiamo. La prima cosa che viene in mente è per aumentare il tasso di utilizzo di Speed, per esempio noi abbiamo intenzione, questo è un progetto che abbiamo in atto, di in qualche modo agevolare gli studenti che si iscrivono e si immatricano a sapienza fornendogli tramite un accordo con i denti di provider, può essere qualsiasi, fornire noi automaticamente con le pratiche di immatricolazione l'identità digitale, questo dovrebbe facilitare l'utilizzo in seguito dell'accesso digitale. Che succede? Ecco questi sono i dati, non li può leggere come crede. Queste sono le esperienze, qui chiudo la mia prima parte di questa intervento di sapienza e le impressioni, le conclusioni a cui siamo giunti durante la fase di sviluppo dell'accesso ai suoi. Innanzitutto noi abbiamo un gruppo di sviluppatori che si è dedicato a questa impresa e quello che è emerso è che l'implementazione richiede una certa expertise, quindi è complessa di per sé, almeno quella nativa così come le specifiche di Speed richiedono. Quindi immagino che una pubblica amministrazione che non ha a sua disposizione un gruppo di sviluppatori dedicato possa trovare delle difficoltà a implementare direttamente Speed, se non ovviamente ricorrendo a forze esterne. Quindi l'idea di Easy Speed è proprio per semplificare innanzitutto questo tipo di approccio. Secondo, non è presente un ambiente per così dire ufficiale di test, per cui anche l'implementazione per provarla, per vedere se tutto è corretto, per avere una sicurezza che poi quando si va in produzione le cose funzionano è mancante. Questo è un altro punto dedicato e poi manca una documentazione completa che aiuti lo sviluppatore a realizzare in modo completo, certo e sicuro, questo accesso. Questi sono un po' i punti che noi abbiamo visto essere critici nella nostra esperienza di sviluppo. Un po' più altri aspetti tecnici che adesso il dottor Ricci vi illustrerà, vi illustrerà come funziona Easy Speed, perché riteniamo essere più semplice, perché riteniamo essere una soluzione molto più adatta, molto più utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, ripeto, quelle più piccole, con minore risorse interne di sviluppo, per realizzare nel tempo più rapido possibile, in modo efficiente, in modo sicuro, l'accesso a Speed. Ho la parola da Franco, io mi faccio da parte. Buongiorno a tutti, continuo l'intervento del Presidente. Allora, brevemente, qual è l'idea che è dietro Easy Speed? Easy Speed vuole semplicemente essere un intermediario che dia la possibilità a un generico service provider di astrarsi completamente dall'utilizzo dello standard SAML2 sul quale è basato Speed. Vi anticipo che il mio intervento sarà abbastanza tecnico, quindi, vista la platea a disposizione, immagino che non ci siano problemi. Vedo una domanda dicendo che Easy Speed sarà erioso, ovviamente sì, siamo una pubblica amministrazione e il codice di tutte le pubbliche amministrazioni, come sapete, è per definizione più utilizzabile da altre piante. Quindi, diciamo, riprendendo, Easy Speed è un middleware, in termini tecniche è un middleware che permette che si interporrà fra l'identity provider e il generico service provider. Molto semplicemente, questo è uno schema di flusso di come dovrebbe avvenire l'interazione tra il generico utente, il service provider, Easy Speed e l'identity provider. L'utente che cosa farà? L'utente normalmente chiederà accesso ad un servizio del service provider utilizzando il canale e l'autenticazione Speed. Service provider, invece di parlare direttamente con l'identity provider utilizzando il protocollo, le specifiche di Speed, inoltre ha la chiamata al servizio Easy Speed, che è più semplice da utilizzare perché si basa su degli standard più accessibili in questo momento a livello tecnico. Quindi, utilizza dei web services RESTful e dei messaggi di scambio basati sullo standard Gisor, a differenza di Speed che utilizza XML e il protocollo su. Ovviamente, queste API di scambio tra il service provider ed Easy Speed possono essere ampiamente personalizzate e quindi possono essere più aderenti alle necessità del service provider. Una volta che il service provider, quindi, attraverso l'epidity speed inoltre alla chiamata, Easy Speed provvederà semplicemente a rimappare quella chiamata nei metodi corretti per interagire con l'identity provider attraverso il protocollo SAML2. A quel punto il browser dell'utente verrà rindirizzato verso l'identity provider. Io spero. Quindi, Easy Speed rimapperà le richieste del service provider verso l'identity provider utilizzando lo standard CP2 come da manuale. Le risposte dell'identity provider, le cosiddette SAMResponse, verranno rindirizzate attraverso Easy Speed dal service provider utilizzando chiaramente, verranno tradotte, verranno tradotte in messaggi JSON più facilmente digeribili da service provider. Ora, tutto questo in che cosa si traduce? Si traduce in una serie di caratteristiche del servizio Easy Speed. Easy Speed ha una collezione di API che gestiscono l'intero ciclo di autenticazione in maniera trasparente e facilmente configurabile da parte del service provider. Come ho già detto, si basa su servizi web di tipo RESTful basati su messaggistica JSON. La necessità di utilizzare questo approccio è collegata direttamente alla vastità di librerie in ambito di sviluppo che utilizzano ad oggi questi web services. Librerie che non sono altrettanto vaste e comunemente diffusi per il protocollo SU. e ovviamente ci sarà un ambiente di test per permettere agli sviluppatori di verificare il corretto funzionamento dell'autenticazione. Oltre a questo c'è infine un pannello di controllo per la gestione dei principali parametri di Speed perché molti di voi sapete che Speed porta dietro dei requisiti. C'è la necessità di pubblicare dei metadati, c'è la necessità di dotarsi dei certificati per la firma dei messaggi contenuti nelle richieste SAM e anche per la decodifica dei messaggi in risposta. Quindi diciamo ci sono dei parametri che vanno configurati. Anche la stessa lista degli identity provider che viene presentata all'utente è una lista variabile quindi ci potrebbe essere la necessità di aggiungere o togliere nuovi identity provider. Quindi diciamo in maniera molto sintetica i Speed dovrebbero mettere a disposizione del identity provider un database con le configurazioni, un sistema di notifica verso l'amministratore, la pubblicazione dei metadata SAML che poi vengono agganciati dai vari identity provider, la lista degli identity provider quindi da proporre agli utenti e anche ovviamente il log delle transazioni perché la prima cosa che un service provider giustamente vorrebbe sapere è gli accessi che sono andati a buon fine, quelli che non sono andati a buon fine, il motivo e via discorretto. Detto ciò concludo ricordando a tutti i partecipanti che al di là dell'implementazione che si utilizza per aderire a Speed un ruolo molto importante lo svolge l'applicazione che si vuole agganciare a Speed perché il sistema di autenticazione nativo dell'applicazione è di fatto lo scoglio maggiore perché se le applicazioni utilizzano un'autenticazione a token o in generale stateless EasySpeed e la variante EasySpeed trovano un'implementazione abbastanza rapida e quindi poco onerosa. Qualora le applicazioni invece siano basate ancora su autoindicazioni dei cookie residenti sul client dell'utente quindi nel browser, non è escluso che sia necessario fare un'opera di re-ingegnerizzazione dell'applicazione che da quel momento in poi dovrà accettare un token perché Speed una volta che l'identity provider ha garantito l'accesso alla persona che ha digitato le credenziali poi quell'autenticazione si deve tradurre nell'autenticazione dell'applicazione nativa quindi l'unico sistema per poter far accedere ad una persona ad un'applicazione senza conoscere le sue credenziali è o riscrivere la parte di autenticazione oppure che l'applicazione sia basata su un token. Io ho terminato il mio intervento, sono stato abbastanza rapido per lasciare credo spazio alle domande. Quindi... Qualche domanda che c'è? C'è il risposto del riuso? Allora, il riuso già vi ho risposto. Come richiedere il riuso? Il riuso si richiede banalmente utilizzando i canali della PIA quindi diciamo Sapienza metterà a disposizione questo servizio il codice di questo servizio perché come ha detto il Presidente precedente Isispeed è prima di tutto un servizio per noi Sapienza quindi lo utilizziamo perché ci semplifica l'utilizzo dell'autenticazione quindi Sapienza mette a disposizione sia il codice sia il servizio il servizio è un servizio in cloud possiamo mettere a disposizione un servizio in cloud quindi nessuno deve... Un attimo stanto che sto leggendo questa domanda quindi il sistema riguarda l'utilizzo per far funzionare un'applicazione dedicata del service provider allora rispondo a Massimiliano Manna che chiede se il nostro sistema riguarda l'utilizzo di Speed per far funzionare un'applicazione dedicata del service provider l'utilizzo di Speed è un modo per scaricare il service provider da implementare Speed utilizzando tutto il manuale Agile cioè se una pubblica amministrazione vuole implementare Speed per poter accedere a una propria applicazione deve creare, cioè deve andarsi a studiare l'intero standard SAM 2 e seguire le linee di cui da Agile passo passo per poter parlare con l'identity provider una volta che poi ha parlato con l'identity provider la risposta dell'identity provider si tradurrà nell'accesso o meno alla sua applicazione Easy Speed vuole semplicemente togliere il primo effort quello di dover implementare in maniera canonica l'insieme delle regole Agile quindi cercare di facilitare il colloquio con l'identity provider per riuscire ad ottenere dall'identity provider è una risposta più più maneggiabile tra virgolette di quanto possa essere una SAM response di tipo XML quello che c'è dopo è una cosa che è a prescindere da Speed e dall'implementazione di Speed che mi viene dietro cioè poi il service provider deve necessariamente riuscire a a far parlare la risposta dell'identity provider con la sua applicazione allora leggo una domanda che mi sembra abbastanza particolare si scrive che mi sembra interessante più per i software house che per l'ente finale o sbaglio dipende dall'ente finale cioè dipende da che ruolo svolge l'ente finale cioè se l'ente finale diciamo ha dato tutto quanto fuori allora chiaramente diciamo lui chiamerà la sua software house gli chiederà di implementare di implementare Speed dall'A alla Z qualora invece il service provider la pubblica amministrazione ha un minimo di controllo sul suo software sicuramente Easy Speed ha un valore aggiunto perché lo scarica da tutta una parte implementativa che invece dovrebbe svolgere che dovrebbe svolgere un'altra domanda di Easy Speed comunica con Speed ovvero il DB sarà unificato ma Speed non è un DB Speed è soltanto una modalità di autoindicazione centralizzata i DB dell'identity provider sono tanti quindi Easy Speed comunica con tutti gli identity provider così come ci comunica Speed i piccoli comuni non hanno risorse interne sufficienti da sviluppare e infatti è proprio questo il discorso cioè proprio perché i piccoli comuni non hanno un software house alle spalle ma avranno delle applicazioni che qualcuno ha sviluppato per loro perché se non c'è a disposizione l'applicazione non staremmo parlando di nulla quindi Easy Speed potrebbe riuscire ad essere per loro un grosso vantaggio perché gli scarica da tutta la parte di implementazione di Speed e allora l'unico effort che dovrà fare il comune sarà quello di adattare quell'applicazione che sicuramente si appoggerà a un'azienda informatica piccola grande che sia quindi chiaramente per lui i costi sono molto più contenuti viceversa invece una software house nel momento in cui si deve si deve implementare Speed da A alla Z chiederà una cifra diversa questo? quindi c'è molti compiuti se il provider è l'identità multiple con più IP ma in Speed l'IP non gioca nessun ruolo perché ciò che conta è la username e la password che viene fornita verso l'identity provider quindi il fatto che io mi colleghi da un IP e poi venga venga lattato non... se quei IP enti no allora sui costi allora torno a ripetere se si prende il codice di Easy Speed e si installa presso il loco quello è un codice quindi siamo delle pubbliche amministrazioni quindi quel codice può essere preso e utilizzato gratuitamente se invece si parla di utilizzare il servizio in cloud di Easy Speed allora lì non viaggiamo più sulla stessa logica di riuso perché non c'è un riuso del codice quello è un servizio allora questa non è una domanda alla quale posso rispondere io ovviamente la Sapienza è un'università molto 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 grande quindi anche da questo punto di vista potrà fare qualcosa di particolare si diciamo è una di quelle cose che abbiamo in programma cioè eventualmente ovviamente ce ne sarà richiesta dipende pure dalla visione dalle richieste che arriveranno una fornitura di un servizio in cloud di questo genere è tra le cose che abbiamo messo in programma però chiaramente la sua attuazione dipende anche dall'interesse dipende anche dalle richieste che ci perverranno se non ci sono altre questioni noi avremmo terminato il nostro intervento poi c'è un'ultima domanda se ci sono dei costi di utilizzo del sistema Easy Speed immagino che significa una volta provveduta l'installazione l'installazione ha funzionamento dipende come se è interno o se è locale no ovviamente se invece si aderisce a quello che dicevo prima è un servizio diciamo diverso gestito da un ente diverso tipo sapienza è ovvio che qualcosa un attimo sulla sicurezza la sicurezza è garantita esattamente come qualsiasi altro servizio che si utilizza in cloud quindi ci sono le soldi connessioni cifrate col giusto livello di sicurezza di sicurezza ma è la stessa identica sicurezza che sia quando si contatta direttamente l'identity provider utilizzando lo standard SIP2 Speed non alteriamo i livelli di sicurezza non alteriamo i livelli di sicurezza non capisco ah sì allora chiedo a Gianluca di lasciare i nostri contatti qualora qualcuno dei partecipanti fosse interessato va bene potete nel frattempo riportarli in chat mentre ci avviamo alle conclusioni e poi eventualmente se volete possiamo fornirli quindi nel caso ci vengano richiesti da parte dei partecipanti di oggi allora grazie a tutti per la partecipazione sono le 13.30 in punto quindi oggi finiamo in perfetto orario rispetto all'orario previsto io mi prendo giusto l'ultimo minuto per completare Bani forse doveva completare sì Matilde il webinar è stato molto complesso e articolato oggi diciamo che era quasi arrivata alle conclusioni in ogni caso c'è un sito dedicato a Speed dove c'è documentazione per le amministrazioni che devono implementarlo e per gli utenti che devono attivare il servizio quindi possiamo rimandarvi al sito per eventuali approfondimenti io invece mi prendo giusto qualche altro istante per dirvi che le presentazioni dei relatori sono già disponibili su NTP la pagina che avete utilizzato per iscrivervi all'evento di oggi la registrazione sarà disponibile a brevissimo e nel pomeriggio anche su Youtube domani abbiamo il quinto e ultimo webinar previsto per questa settimana dell'amministrazione aperta e parleremo di come condurre una consultazione pubblica come condurre una consultazione pubblica che uno degli argomenti che verranno affrontati è proprio quello delle linee guida sulla consultazione pubblica che sono state presentate possiamo dire pochi minuti fa al Dipartimento della Funzione Pubblica il testo è veramente fresco di stampa l'ho scaricato pochi minuti fa lo ritrovate online all'indirizzo che vi giro nella chat se siete interessati vi suggerisco di iniziare a leggerlo in modo tale da domani poterne discutere in maniera anche più approfondita con il dottor Stefano Vizzi Cannella che ne è il responsabile perfetto quindi se non siete ancora iscritti al webinar e siete interessati le iscrizioni si chiudono come sempre alle 10 quindi avete ancora tutto il tempo per iscrivervi e direi che per oggi possiamo chiudere qui grazie a tutti grazie a tutti e buon pranzo grazie a tutti